bella a tutti raga bentornati in questo nuovissimo video come sempre io sono kino oggi mi segnerò a fare il glitch su consegna la bomba allora raga prima di cominciare il video vi voglio fare una premessa questo glitch funziona da ormai un anno intero un anno intero tutto che funziona io l'ho sempre fatto piuttosto che dover trasportare diciamo la bomba a mano dopo vi spiegherò meglio con questo metodo riuscirete a fare le missioni un pelo più veloci appunto in consegna la bomba diciamo solo in questa missione solo esclusivamente qua lo facciamo da tanto tempo quindi il glitch funziona ancora tuttora ho provato anche ieri l'altro ieri funziona sempre però non funziona sempre ogni volta che noi lo facciamo ovvero abbiamo un 90 per cento di possibilità che il glitch non funzioni però possiamo riprovarci sempre nella stessa partita allora raga come funziona questo glitch innanzitutto bisogna sempre recuperare recuperare il blob dopodiché lo posizioniamo dentro a costruiamo i binari colleghiamo a e b vi ricordo anche di guardare bene la fenditura perché se non la guardate poi collegate i binari non ve li conta quindi guardatela visitatela adesso io piano piano in questo video vi farò vedere bene appunto tutti i vari procedimenti eccoci al dunque allora prima bisogna sempre costruirli binari raga quindi a e b vanno sempre collegati questo passaggio non si può saltare assolutamente se no al glitch non funziona ma neanche la missione ovviamente adesso magari e velocizzerei la clip se no viene troppo lunga allora raga come potete vedere il binario è abbastanza lungo la missione diventerebbe abbastanza veloce diciamo che se formata con un team appunto da persone in parti magari la missione si può fare ancora più veloce in modo che uno fa il glitch l'altro intanto ha già costruito attiva io adesso ve lo sto facendo vedere addirittura in pubblica quindi come primo consiglio comunque raga e dovete avere degli spazi intorno ai binari cioè due spazi liberi sia a destra che a sinistra quindi io mi libro già la mappa spacco tutto quello che c'è intorno anche all'inizio alla fine non è obbligatorio che lo facciate all'inizio come vi sto facendo per far vedere io come vi sto per far vedere io ma dovrete appunto farlo dove siete più comodi dove avete lo spazio qui io guardate vi faccio vedere che il binario ok qua si può costruire perfetto metto metterò un muro qua appunto dove c'è il primo binario in modo che quando vado a fare il glitch non mi si colleghi con questo binario dietro che non c'entra niente guardate un binario un muro in mezzo e i binari intorno ok la bomba è sparita quindi il glitch ha funzionato subito noi in questo caso possiamo andare direttamente a b attivare la difesa e finire la missione in quattro minuti estremamente veloce velocissimo raga volete rivederlo a rallenti so che potrà sembrare complicato raga per chi non lo sapesse fare ma vi assicuro che dopo un po con un po di manualità vi verrà automatico e verrà sempre più semplice comunque da un piccolo consiglio con i comandi vecchi a scuola dovrebbe essere ancora più semplice farlo il glitch piuttosto che con professionista della costruzione o del combattimento qualsiasi qualsiasi voi abbiate perché appunto a differenza della battaglia reale io qua uso tasti differenti cioè uso tasti differenti per la battaglia reale per salvo al mondo quindi qua vedete che switch ancora le costruzioni con triangolo perché non mi va di usare le abilità con le dita incrociate per il momento mi trovo bene così e il glitch su consegna la bomba ho notato che con questo set di tasti viene molto molto più semplice comunque se non avete ancora capito raga come fare questo glitch adesso voglio farvi vedere anche un'altra clip ho già provveduto a collegare un'altra armeria e vi faccio vedere guardate quanto è lunga questa eh guardate cioè sta strada sarebbe lunghissima da poter fare cioè da dover fare con la bomba trasportata a mano eccetera eccetera no guardate qua ho lasciato lo spazio libero quindi probabilmente lo farò qua il glitch oppure pure qua c'è tanto spazio mi ero dimenticato anzi qua c'è più spazio ancora va bene va bene penso di poterlo fare qua vediamo che questi se ne vanno bella guys ci si vede in teoria potrei farlo anche qui raga come vedete guardate ci sono due spazi basterebbe che io metto un muro qua un muro qua in modo che quando vado a fare il glitch non non mi sinuiscono tutti i binari quindi magari aspetto però ve lo faccio vedere più avanti in modo che risulta più semplice per voi impararlo magari la bomba parte guardate io la lascio pure dietro è me ne vado magari mi faccio difendere da una torretta a me lo faccio qua mi piace un posto via 1 2 3 non ha funzionato raga ok raga provo a farlo qua vediamo speriamo che vada 1 2 se non dovesse funzionare raga potete sempre riprovare più avanti no boh ora è andato vabbè avete visto no l'ho fallito una volta non ho neanche spaccato sono andato avanti ho rifatto la stessa cosa da un'altra parte e a sto giro ha funzionato non di solito funziona meglio eh però anche se non vi dovesse funzionare basta che non vi non vi fate prendere dal panico ci avete provato un pelo più avanti è abbastanza semplice io avrei provuto potuto provare anche lì all'inizio dove ho lasciato lo spazio raga ma tranquillamente l'ho voluto fare avanti per darvi la dimostrazione che potete farlo quando volete allora raga quello che non vi ho detto però è che facendo il glitch ci sono anche delle degli aspetti negativi nel senso che durante la difesa per difendere b di solito spawnano un certo una certa quantità di zombie e avrete uno spawn aggiuntivo che si aggiungerà perché appunto baggando mi sembra che rimangono anche quelli che vi dovrebbero spawnare durante il trasporto della bomba e vi rimangono che vi spawnano anche quelli e praticamente è probabile che anche vi nascano di due elementi diversi perciò non impanicatevi ma semplicemente distruggeteli tanto sono tutti distruttibili questi zombie no? per il video di oggi è tutto raga io spero che questa idea come sempre l'appreziate avevo già portato sul canale video del genere ho voluto riportarlo perché ho visto che in passato comunque non ero tanto seguito ora visti i grandi numeri mi sembra giusto doveroso farvi risparmiare il tempo anche a voi perché in sostanza questo glitch non serve a niente se non farci risparmiare appunto quei minuti soprattutto quando il binario è appunto lunghissimo ci vediamo domani con un nuovissimo video bella raga ciao